Deputato uscente e deputato confermato. Un consenso fatto con il voto cercato, ricercato, come fa un politico serio, nonostante qualcuno ha pensato che si potesse mettere di traverso, però alla fine io credo che la coerenza, la serietà e l'impegno viene riconosciuto dagli elettori. Quindi vorrei dire un grazie, 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 grazie a tutti coloro i quali si sono impegnati con me in questa campagna elettorale, hanno creduto nel progetto politico e nell'impegno che ho profuso per il territorio e per la provincia di Messina e oggi un risultato raggiunto in una campagna elettorale che, credetemi, come era stata preannunciata, non è stata una campagna elettorale, lo hanno visto, lo hanno dimostrato i risultati, molto semplice perché ha prevalso il voto di protesta, il voto di pancia come in altra occasione. Io invece sono sempre stata per la politica della coerenza, della serietà e soprattutto della politica a servizio del territorio, a servizio della mia provincia. Lei ha avuto un'esperienza straordinaria, possiamo dire, visto i risultati a livello trasversale come assessore regionale agli enti locali. Facciamo un gioco di prospettiva. Sente eventualmente la possibilità, avverte la possibilità che possa essere nuovamente assessore dell'esecutivo di Renato Schifani? No, avevo già detto che non avrei potuto fare l'assessore quando ho fatto una scelta diversa, che è stata una scelta di amore per il mio paese. Quando il mio paese, quando Capriloni ha chiamato, io ho risposto sì e quindi da sindaco non posso essere nominato assessore. Sicuramente ricoprirò altri ruoli ugualmente importanti che mi porteranno ad essere impegnata per il territorio, a lavorare per il territorio. Ma sicuramente non potrò fare l'assessore. Ero già consapevole di questo quando mi sono candidata a sindaco. Così come ho detto, in politica si fa una scelta per passione, si fa una scelta per amore. Io, e si fa una scelta per convenienza, tanti fanno scelte per convenienza, io ho sempre fatto scelte per amore e per servizio.